Porte aperte anche a Capodanno e per l'Epifania nei Musei Settempedani. Dopo gli orari speciali per il Santo Natale, la visita alle principali raccolte d'arte, in particolare alla Pinacoteca Civica Padre Tacchi Venturi, al Museo del Territorio e al Museo della Guerra, allestiti in una doppia mostra dal titolo Memorie di una Terra a Palazzo Servanzi Confidati, sarà possibile anche il primo giorno del 2022 e nei successivi giorni almeno fino al 6 gennaio. In Pinacoteca si potrà entrare a Capodanno dalle ore 15 alle 18.30, nei giorni feriali e festivi apertura dalle ore 10 alle 13 la mattina e dalle 15 alle 18.30 il pomeriggio. Unico giorno di chiusura al pubblico resta sempre il lunedì. La doppia mostra Memorie di una Terra sarà aperta il giorno di Capodanno dalle 15 alle 18.30. Gli orari di apertura fino al prossimo 6 gennaio sono giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Su prenotazione sono poi visitabili il Museo di Borgo Conce e la Chiesa di San Rocco. In questo caso ci si può rivolgere alla Proloco Iat in Piazza del Popolo 43 oppure chiamare il numero di telefono 0733 638414.